Abele, puoi venire un attimino nei campi che c'è una roba da farti vedere che... Tra! Caino, dov'è tuo fratello? Boh, no... Tu l'hai ucciso! Non si poteva? Vabbè, non lo uccido più. Caino... Caino fa figli, tutto il mondo si popola di figli di Caino. Dio, diamo un'occhiata? Non mi piace. Noè, munirsi d'arca, perché? Modellismo, dai, su! Pioggia, 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 sereno, umanità sterminata. Noè, ripopoliamo, al lavoro. Noè, fa sem, sem arpaxad, arpaxad selak, selak e ber, e ber peleg, peleg reu, reu serak, serak n'akor, n'akor terak, terak abramo, 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 moglie sterile! No! Intervento divino, eccoti Isacco, grazie a Dio! Aspetta!